Continuano nella città di Agropoli le attività di pulizia del litorale. Dopo il Lido Azzurro toccherà alla spiaggetta del porto turistico. E proprio per quest'ultima novità in arrivo da Palazzo di Città sono a lavoro senza sosta per il riaffondamento della Poseidonia Oceanica, spiaggiata, dichiara il primo cittadino Adamo Coppola. In settimana sono stato a Salerno per mantenere alta la guardia su questa problematica. E poi continua il primo cittadino. Ci sarebbe la possibilità di creare degli impianti dedicati alla Poseidonia che potrebbero risolvere la problematica. Io sto continuato a lavorare senza sosta sul progetto di riaffondamento della Poseidonia. Si è aggiunto un progetto in più, lo anticipiamo insomma ma comunque nelle prossime settimane vi daremo poi notizie più precise, che è quella della possibilità anche di creare degli impianti dedicati alla Poseidonia. Ce ne sta uno che stiamo monitorando in Toscana e un altro in Sardegna. Due impianti che separano la Poseidonia dal sabbia e dai rifiuti, lavano la Poseidonia, quindi la separazione con la sabbia diventa completa grazie al lavaggio e soprattutto il lavaggio determina l'eliminazione del sale. A quel punto, tolto il sale, la Poseidonia diventa una componente utile al meccanismo di ammendante del terreno, quindi può diventare realmente concime e abbiamo già verificato che gli impianti di smaltimento in questo momento prenderebbero la Poseidonia lavata zero a zero, cioè non chiederanno i costi. Questo abbatterebbe di molto e se oggi si parla di 220 euro a tonnellata potremo scendere al di sotto dei 100 euro. Che devo andare in Toscana? Facciamo un impianto nella provincia di Salerno, in questo modo ci sarà soltanto il costo di separazione e anche i costi di trasporto verranno abbattuti. E' stata presa di buon grado questa notizia dal lato, dall'assessore regionale Bonavitacolo e quindi abbiamo inserito un impianto di riutilizzo della Poseidonia nella impiantistica che sta per partire e finanziata dalla regione Campania. Questa è un'altra notizia, naturalmente è un lavoro ancora in corso, va ancora dettagliato questo lavoro, ma nel medio periodo avremo credo un'ulteriore soluzione per non dover soffrire più di questo male.